Sabato 29 e domenica 30 giugno si svolgerà la settima edizione di Top Down, il raduno di autocabrio che offre agli appassionati di autoscoperte una passeggiata nell'entroterra tra colline e borghi storici con una finalità benefica, quella di raccogliere fondi a favore della ricerca del professor Strippoli dell'Università di Bologna per una cura genetica volta a debellare la disabilità intellettiva nei soggetti con sindrome di Down. Top Down è un progetto che nasce da un'idea di un gruppo di appassionati possessori di autosportive che avendo figli con sindrome di Down hanno pensato di fondere la loro passione per le auto con l'attenzione verso la ricerca. Noi crediamo in questo progetto ormai da sette anni, questa è la settima edizione e questo progetto è sostanzialmente una ricerca genetica che cerca una cura, chiamiamola così, per alleviare o possibilmente annullare la disabilità nei soggetti con sindrome di Down che è la malformazione genetica più diffusa al mondo. Quindi annullare la disabilità di qualcosa come 6 milioni di persone nel mondo significa cambiare la vita a loro e anche a tutti i relativi familiari. Quindi è vero che ci divertiamo con le macchine, è vero che facciamo un bel giro, vediamo posti belli però sotto c'è un messaggio sociale un pochino più importante. In piazzale della Libertà di Pesaro sabato alle 15 ci sarà la partenza delle auto che dopo un percorso fra strade dell'entroterra si riuniranno al barco Ducale di Urbagna ai partecipanti scattati da Bagno di Romagna e Castelfiorentino. Domenica invece il punto d'arrivo comune per il pranzo e il ristorante Utopia del Parco Miralfiore, luogo simbolo di inclusività. Al via sono previsti 64 equipaggi per circa 130 partecipanti provenienti da tutta Italia. Perché abbiamo partecipanti dalla Lombardia, abbiamo partecipanti dalla Toscana, abbiamo partecipanti dall'Abruzzo, abbiamo qualcuno che dovrebbe raggiungersi anche dal Friuli e dal Veneto, quindi sì effettivamente da tutta Italia. La particolarità unica del nostro raduno non è tanto lo sfondo di beneficenza perché effettivamente esistono anche altri raduni di beneficenza, però è il fatto di avere tre punti di partenza diversi, in tre regioni diverse che quindi accolgono partecipanti da ancora più lontano e poi il bello è partire da tre posti diversi, fare tre strade diverse e poi riunirsi tutti insieme e fare l'ultimo pezzo tutti insieme.